L'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla Pedemontana e sui rilievi del Bassanese ha portato forti pioggi in pianura e nevicate dagli 800 metri in su, ma gli sbalzi di temperatura stanno portando a livello molto alto il rischio di valanghe e slavine. Una valanga è scesa durante la nevicata sulla strada Cadorna a poche centinaia di metri dal Sacrario. La strada è stata invasa dalla neve e resa quindi impraticabile. Anche l'altopiano dei Sette Comuni ha visto l'ennesima neve di questa stagione invernale. L'ondata dovrebbe essere in esaurimento già questa notte mentre lo stato di attenzione diramato dalla protezione civile riguarderà fino a domani il territorio vicentino e padovano a causa dell'innalzamento del livello dei fiumi e di corsi d'acqua.